Musica Hi people of youtube Welcome back to a new episode of Scarlet Nexus A parte gli scherz, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro tentato omicidio nei confronti di Yuito E siamo di nuovo qua con la nostra famiglia Allora, per la nostra famiglia io vedrei se ci sono dei regali a questo punto Ovviamente sono stati aggiunti nuovi prodotti La stella cadente, vediamo Più tre di attacco per duemila Ok, sono arrivati tutti i nuovi oggetti che aumentano di tre un po' tutti Non è il massimo, ma almeno i campi di forza sono già qualcosa di più utile Però a me interessano ovviamente i regali per ora Fotografia di fulmini Perché sì, va bene, dammela I materiali ce li ho Pergamena della velocità Ok Vg di un cervello Se a lei piace, voglio dire Cactus in vaso Va bene, dammela No, aspetta I materiali non sono tanti lì, eh Prima vediamo gli altri Questo sempre uno ne abbiamo Però a questo punto Magari a qualcuno lo regalo Io credo che tutti gli oggetti qua con l'asterisco Siano oggetti DLC Non so se il gioco già me l'aveva detto o meno Ma credo di sì a questo punto Credo che da questo qua in poi che piace a tutti Tutto questo sia DLC Comunque, prendiamo il cactus in vaso Prima di fare tutti quanti i cosi legame con loro Io passerei prima ai regali Poi vediamo il resto Allora Beccati i mini cactus Che fanno atmosfera Oh, che carini Li metterò sotto le chitarre Vediamo cosa dice Non ho un gran pollice verde Ma chiederò consiglio a Tsugumi Va bene Siamo aumentati? No Ma aumenteremo probabilmente con questo evento legame Beccati la fotografia dei fulmini Che ti piacciono tanto Vediamo Ti è piaciuto? I veri fulmini sono stupendi Mi stupisce che tu apprezzi la straordinaria bellezza Un giorno voglio scattare una foto come questa Un giorno Sono sicuro che ce la farai Shiden Beccati il visogramma di un cervello Vediamo Dove lo metterà? Sul tavolo vicino ai cristalli Il cervello è strano Al suo interno c'è tutta la nostra identità È vero? Forse è il caso di parlare con Arashi Eh, ma va? Però prima fagli il regalo Pergamena con scritto velocità La appenderà sicuramente al muro Secondo me è lì sulla destra Oh, che carino E vai Eh, non ne capisco molto Ma immagino questa sia l'idea di traduzione di bellezza No, di velocità Mi dispiace È sbagliato Sì, l'ha messo proprio lì Dove immaginavo Ma Arashi, tutte queste scatole Da dove sono apparse? Scusami Non c'erano prima Ok, abbiamo fatto i regali a tutti Sono disponibili nuove missioni nel simulatore Va bene Oh, Gemma Ciao Anche Yuito Ah Allora, il fatto che Yuito ci abbia scritto E che possiamo incontrarlo È dannatamente strano Soprattutto dopo il nostro tentato omicidio Cioè Kasani Vieni che ci incontriamo Che mi devi spiegare Porca miseria Ti prego, parlami Io prima parlerei con tutti qua la base E per ultimo teniamo Yuito Perché potrebbe essere qualcosa di un filino più importante Va bene Iniziamo con Kagero allora Sicuramente sei carino Ancora Kikuchiba? 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 Kaii mamile no haikyo Niente Dov'è? Dov'è? Kikuchiba Kikuchiba Kaii mamile no haikyo Nel senso che lui è forte o che tu lo sei? Visto che l'altra volta non ci sei riuscita Almeno provaci Chissà se combattiamo veramente o è solo evento legame in cui fingono di combattere Stranamente poi Eh esatto Caso vuole No no aspetta restiamo qua Eh esatto Piuttosto fatemi un giro no? Tanto sicuro ti dice qualcosa sul suo passato che abitava in queste zone tipo Ecco appunto Vediamo dai Io vivevo qui una volta Ah Kasane non capisci proprio gli uomini tu No penso che non sei sia resa conto Cosa ti avevo detto Kasane? Ti sta raccontando il suo passato Mentre per me i ricordi sono ancora vivi del passato si Beh quando diventa serio si vede comunque Kasane Cioè è una di quelle persone che pensi scherzino sempre quando in realtà comunque alla fine hanno il loro momento di serietà serio puro e cristallino Io posso usare la psicocinesi Ecco fatto Funziona sembra ancora funzionare quindi No dai Hai preso un programma di hacking per hackerare la gru Oh se non li prende tu li ruberà un estraneo eh Eh esatto Poi se li vinci vuol dire che sei stato bravo eh Voglio quello là Anzi dirà che è uguale sicuro Quello Adesso dirà che ha buon gusto Quanto ci fai che non ce la fa Vediamo se ce la fa la prima Va bene guarda Guarda lo sapevo che avrebbe fallito Miseramente Usa la psicocinesi per davvero ora Quanto ci fai che lei ci riesce subito o usa il potere Ecco Eh esatto Effettivamente E non ci parla del passato Però Kasana glielo chiederà Ah no Invece no Però forse siamo aumentati di legame Forse con lui e Arashi Arriviamo al livello 3 di squadra Con un paio di regali che abbiamo fatto Ci spero almeno Non mi aspettavo che Kyoka ce l'avrebbe chiesto Ammetto Adesso gli tiro un pugno Quanto ci fai Dio mio che crudeltà Non sei riuscita a prendere un pupazzo Dio mio lo sapevo che avrebbe detto Arara Non mi sono neanche sforzato Ahia Ahia Ecco Potremmo essere una famiglia La prossima volta uscirete di nuovo Sono sicuro Ecco lo sapevo Porca miseria Ma non fare soffrire mia figlia Stronzo Certo è vero La nostra vera madre Ci ha diseredato Ma Kyoka è sicuramente Un ottimo rimpiazzo No no Esatto Mi fai anche un regalo Kagero Grazie Il tuo legame è salito a livello 3 Perfetto Invisibilità durata E VG combo E vai Hai ricevuto l'orsacchiotto Oh Dai Che bellino Certo Tutto quello che vuoi Il pupazzo non era così bellino Dentro la macchinetta Sembrava un po' distrutto Ma ehi Va bene così Più che altro Mi disturba il fatto che Il nostro Piano È condiviso con Con Gemma Che c'ha quegli strumenti E là sotto c'è l'olio Ci sono le lattine di olio Ok Arashi È il tuo turno Avremo dovuto informare Tutti di quello che avevamo scoperto Da Kana molto prima Questa volta ci sono Delle cose che devo confessare Va bene Va bene Madonna mia E poi lì per velocità Sicuramente Stancante Andiamo a mangiare al Musumi E vai Sicuramente essere famosi Non è Non è così liberatorio A volte Esatto Sì ma voglio mangiare Qualcosa di sostanzioso Vediamo cosa mangiamo oggi Una barretta proteica Cos'è quella roba Sicuramente tu hai bisogno Di molti zuccheri Ah Proprio ormai Le papille gustative Distrutte Questa ragazza Questo si notava Grazie anche alle ricette Che ti ha dato Che ma l'altra volta Immagino All'inizio facevano Veramente schifo Ma non potevo Dirglielo Sicuramente Sicuramente Solo perché Mio fratello E' uno stronzo Perché sono cresciute assieme Si volevano bene Eh posso immaginare Visto come ti ha trattato L'altra volta Non l'avrei mai detto Guarda 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 Lei è compiaciuta Che finalmente Stiamo parlando Qualsiasi cosa sia Ma va Lei è compiaciuta Ma sono sicuro Che le volevi bene Posso immaginare Oh e siamo contenti Io invece mi sono trovata Quella che mi sono trovato Finita quella discussione Ah ok Pensavo sarebbe tornata A dormire io Sinceramente Eh esatto Secondo me è una stronzata Quanto ci fai Sei un po' Un po' subdola Eh esatto Mi è solo offerto Delle reazioni salate Ecco appunto Il bello di essere una star Sicuramente siamo saliti Ecco appunto L'apici dell'ozio Ma ti prego Sei diventata più brava Della tua istruttrice Brava Il legame salito Il legame salito a livello 3 Ok Con L1 poter attivare il visiogramma combo Ah basta Solo il visiogramma Vabbè Meglio di nulla Carte per creare castelli In regalo da Arashi Il legame della squadra Raggiunto a livello 3 Come Ma Cos'è Kasane Shida Incagero Kyoko E Arashi Sono stati riconosciuti Come squadra capace E affiatata Degna di indossare La tenuta Della battaglia bianca Ok Allora Il castello di carte Va bene ma anche no Non pensavo che sarebbe stata una cosa migliore Comunque Fermi un attimo Fammi vedere Prima di andare Da quei due là La tenuta bianca Bianco alba Carino ma Piuttosto roba del genere Non so perché Ma su di lei Questo gufetto Sta Sta magnificamente bene E' arrivato il momento Di rispondere a loro due Lascio che io ti ringrazio per prima Spero di non dovremmo più combattere L'uno contro l'altro Ultimamente mi capita spesso Di andare Alla metropolitana Abbandonata Credo che non dimenticherò mai Ciò che è successo Laggiù Mi spiace davvero tanto Va bene Gemma ti stai ancora incolpando Per quello che è successo A mia sorella Dovremmo parlare senza preoccuparci Che parte stiamo Se ti trovi in metropolitana Aspettami lì Allora Gemma Non ho problemi sicuramente A pensare che comunque Parleremo tranquilli Mi preoccupa L'evento con Yuito Ehi Ciao Grazie a tutti Ora ti saluto Eh esatto Allora Non è colpa di nessuno Su questa storia Beh forse perché eri più vicino A persone come lei E come noi Di come lo sei stato Con altre persone Ma lei non è Ma lei non è morta È quello il punto Gemma Sentiamo Sentiamo Ok questa è un'ottima motivazione Ok questa è un'ottima motivazione Sicuramente non è bello vedere Morire chi ti sta vicino Quello te lo posso assicurare Ed è un bene che tu sia in piedi Ed è un bene che tu sia in piedi E' perché tu hai avuto tanto dalla vita che devi continuare a vivere Gemma Allora Ho capito Ho capito Ho capito Ma Ho capito Che cosa S Ho capito Quasi E' quello il punto Gemma, tu hai un'esperienza sicuramente maggiore di molti altri, è per quello che sei vivo E vabbè però è normale con l'età eh E' normale che prima o poi avrebbero smesso i dati E' sicuramente aver allungato la quantità di tempo in cui puoi starci al massimo potere ti fa sentire inetto se poi te lo tolgono Sicuramente puoi fare del bricolaggio Gemma, gli strumenti per farli ora ce l'hai, te l'abbiamo regalato E invece non devi, tu devi rimanere proprio in vita per commemorarlo E' esatto E' stato grazie anche a loro E' lo sta dicendo persino Kazan, vedi tu Grazie alle persone che sono morte Dovresti solo essere grato Kazan è la cosa terribile di lei che non comprende nessuna idea e nessun sentimento Allora Kazan non capisce certe cose Capisco quello che Gemma intendeva tipo Sono stanco non ce la faccio e tutto il resto Perché ovviamente Però Cavolo dovresti invece essere uno contento di essere ancora vivo perché puoi ancora Commemorare quelli che non ci sono più Voglio ringraziarti eh lo so E infine Yuito Certo non mi aspettavo un messaggio da parte sua ma tantomeno non mi aspettavo una risposta da parte nostra Se deve succedere qualcosa di importante sta per succedere ora Non ho niente da dirti Ok Non era per nulla quello che mi aspettavo Piuttosto veramente non rispondere Ecco appunto L'ha bloccato su facebook Il punto è se invece non avessimo risposto fatto altro Cioè in teoria quando non rispondi a queste richieste Vai avanti comunque Non avanzi il legame Basta finito qua l'evento Bello Allora in teoria il gioco ti dà la possibilità di non rispondere a eventi legami Quindi non farli procedere Mi chiedo se ci sia un qualche giro strano per cui tipo Se non rispondi a questa mail poi Yuito continuerà comunque a scriverti queste cose qua Io non penso che questo gioco abbia più di un finale Credo non ne sono sicuro Però se ce l'avesse sono sicuro che non rispondere a questo messaggio potrebbe essere una di quelle opzioni Non abbiamo più eventi legame giusto Tutti i regali li abbiamo già fatti Perfetto Direi che è arrivato il momento di salutarci qui Anche se potrei andare al Musubi Il problema è che ancora non ho visto l'anime Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti